Allo stadio Città degli Olivi di Bitonto va in scena il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia, dilettanti di eccellenza tra l'Omnia e Bitonto, a cui serve vincere con due gol di scarto, e il Corato. Si riparte dal 4-2 per la squadra Coratina, dopo la partita di andata. Gara dalle 1000 emozioni che termina con il risultato di 4-3 per la compagine ospite, che ribalta il match dal momentaneo 3-0 per l'Omnia. Gli uomini di Beni Costantino giocano una prima frazione d'applausi. Al secondo minuto Patierno, nuovo acquisto arrivato dal Nardò, calcia un rigore in movimento, trovando però la parata di Casella, che mette la palla in corner. Il Bitonto continua ad attaccare, sempre con Patierno, che prova il tiro a giro da lunga distanza, non inquadrando lo specchio della porta. Al trentesimo minuto, arriva il gol dell'Omnia, su calcio di punizione, dalla sinistra, con Turitto, che sfrutta una mischia in area di rigore, siglando la rete del vantaggio. Dopo due minuti, l'Omnia continua ad attaccare, trovando subito il gol del 2-0 con Patierno, che a 2x2 con Casella non si fa ipnotizzare dal portiere della formazione ospite. In questo momento, a qualificarsi per i quarti di finale, sarebbe l'Omnia, che continua ad attaccare con l'Oseto, che sfiora il gol del 3-0. Palla che si stampa sul palo, ma questo è solo il preludio al gol che arriva al 45esimo minuto, sempre con Patierno, che sigla la doppietta, portando al riposo la sua squadra, in vantaggio al termine del primo tempo. Nel secondo tempo, però, cambia l'inerzia della partita, con un Corato che esce fuori dal guscio e incomincia ad attaccare, trovando all'ottavo minuto il gol del 3-1 di Compiarrulli, di testa, che riaccende le speranze per il passaggio del turno. Il Bitonto sparisce dal campo, lasciando al Corato, che continua a presentarsi davanti alla porta presieduta da Lizzano, trovando al 29esimo minuto della ripresa il gol da Patierno. Grazie a questo gol, adesso è il Corato a qualificarsi per i quarti di finale. L'Omnia, psicologicamente col morale sotto i tacchi, permette al Corato di realizzare la rete del pareggio, sempre con diritto, che sfrutta le lacune della difesa bitontina per infilare in porta la palla del 3-3. A perfezionare è il sorpasso del Corato e Colella, al 34esimo minuto, che da calcio d'angolo colpisce la palla di testa, mettendo al sicuro di fatto il passaggio del turno alla squadra allenata da Mr. Scaringella.